Signor Presidente Schulz, onorevoli deputati al Parlamento europeo, faccio mie le parole che lei Presidente ha rivolto a quest'Aula in occasione del ricordo di ciò che è avvenuto 70 anni fa ad Auschwitz e assicuro l'impegno del Governo e del popolo italiano per combattere quella terribile infamia che ha caratterizzato l'Europa decenni or sono mantenendo alta l'attenzione oggi per un debito che noi abbiamo nei confronti del passato ma anche per un grande investimento che dobbiamo fare sulle nuove generazioni. E credo che il suo saluto, il suo speech, signor Presidente ci consenta di entrare nel merito del bilancio del semestre di presidenza italiana ricordando da dove noi eravamo partiti. Prendendo spunto dalla figura di Telemaco, anche in continuità con la presidenza greca, ci eravamo chiesti se oggi queste istituzioni, questi politici, questi rappresentanti dei territori che compongono il grande sogno dell'Unione Europea fossero in grado di assumere il diritto ad essere eredi. Cosa vuol dire essere eredi? Vuol dire poter pensare che l'Europa per noi non è soltanto il ricordo. L'Europa è innanzitutto una speranza. Si declina al futuro, non soltanto al passato. Ha il calore e il colore della opportunità, prima ancora che della preoccupazione. Siamo stati in grado in questi sei mesi di essere all'altezza di questa sfida? Certo, sono consapevole che la stampa, che gli operatori, che gli addetti ai lavori, prima di affrontare questo grande tema, sottolineano, evidenziano, beh però prima parlaci dei risultati, raccontaci se sei soddisfatto di ciò che hai fatto in Europa per l'Italia. È una domanda malposta, signor Presidente, perché chi fa politica non è mai soddisfatto. Se è soddisfatto è bene che cambi mestiere. Ma anche perché non si guida un semestre pensando all'interesse del proprio Paese. Si guida un semestre pensando a come l'Europa può avere una chance per il futuro. Noi italiani, di qualunque colore politico, sappiamo perfettamente che la nostra sfida non è qui, è a casa nostra. Non si tratta semplicemente di evocare il cliché delle riforme strutturali. Significa dire che l'Italia, se vuole stare nella competizione globale, deve cambiare. E in questi sei mesi abbiamo fatto molto nel nostro Paese. Ciò che serve all'Italia lo fanno i cittadini italiani, non le istituzioni europee. E i cittadini italiani devono avere molta più consapevolezza del fatto che in questi anni, in questi anni, noi abbiamo provveduto a dare all'Europa molte più risorse di quelle che abbiamo preso. Ogni anno l'Italia dà alle istituzioni europee circa 20 miliardi di euro, ricevendone non più della metà. L'Italia in questi anni ha concorso a salvare non soltanto stati amici, ma anche le banche, gli istituti di credito di altri Paesi. E lo ha fatto non per un atto di generosità, ma perché crede nelle istituzioni europee. Lo ha fatto senza mettere un centesimo dei denari delle istituzioni europee a beneficio dei propri istituti di credito, che anzi, dopo gli stress test, sono stati costretti a aumenti di capitale. Lo ha fatto perché crede nell'Europa. L'Italia è un Paese che non viene nelle istituzioni europee per chiedere un aiuto, viene per offrire una grande storia iniziata nella Roma della firma del Trattato, ma forse, possiamo dire, iniziata molto prima, iniziata nei valori che hanno fatto grande il nostro Paese, che hanno fatto grande il nostro continente. Noi abbiamo questa idea di Europa, l'idea di un grande luogo di speranza per le prossime generazioni, e sappiamo che i nostri problemi li dobbiamo affrontare a casa nostra, come stiamo facendo con la riforma della Costituzione, della legge elettorale, della giustizia, della pubblica amministrazione, tutte realtà che in questi sei mesi il Parlamento italiano ha mandato avanti. Ma lo abbiamo fatto animati da una visione europea-europeista che ha tanti autorevoli rappresentanti nella storia del nostro Paese. E mi permetterà, signor Presidente, mi permetteranno i membri del Parlamento europeo di ricordarne uno per tutti, che è stato ed ha rappresentato anche in questi sei mesi la guida per il nostro Paese. Vorrei che oggi, da qui, il Parlamento europeo portasse il proprio saluto al Presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, convinto europeista che proprio in queste ore lascerà il proprio incarico, avendo compiuto un lungo percorso di cambiamento e avendo affrontato le difficoltà in Italia con l'intelligenza, la saggezza che molti di voi gli hanno riconosciuto lavorandoci a fianco anche in quest'Aula negli anni passati. Bene, in questo semestre l'Italia ha utilizzato due grandi obiettivi. Il primo, quello di dare valore politico al vostro lavoro, signori parlamentari. Il 2 luglio, quando siamo venuti qui a cominciare il semestre, non c'era ancora la nuova Commissione. Noi siamo stati coprotagonisti insieme a tutti gli altri governi di una scelta che giudico storica. Si è scelto di dare valore politico al risultato delle elezioni del 25 maggio. La designazione di Jean-Claude Juncker come Presidente della Commissione non nasce semplicemente dal riconoscimento di un risultato che di per sé non sarebbe stato sufficiente, perché il partito che ha presentato Jean-Claude non aveva ottenuto la maggioranza dei membri necessari ad avere un voto di fiducia, ma di un accordo politico con la P maiuscola in cui, valorizzando la scelta popolare nei confronti del Presidente Juncker, si è scelto di dare significato profondo al voto dei cittadini legando alla Commissione Juncker un pacchetto di riforme, un progetto politico per i prossimi anni. È la prima volta che questo accade nella storia delle istituzioni europee. Io credo che non dovrà essere l'ultima e che dovrà essere in qualche misura codificata dalla consuetudine politica, ma è un passo in avanti di grande significato. E accanto a questo l'Italia ha proposto un cambiamento del paradigma economico che ha caratterizzato questi anni nel nostro dibattito continentale. Io credo che o l'Europa cambia marcia sull'economia oppure noi diventiamo il fanalino di coda di un mondo che cambia molto rapidamente. Il Presidente Juncker ha fatto proprio questo ragionamento, lo ha allargato con i membri del suo collegio e trovo simbolico che oggi, nella riunione del collegio, il Presidente Juncker presenterà la comunicazione sulla flessibilità e il fondo architrave strategica degli investimenti, del piano per gli investimenti, due operazioni su cui il nostro giudizio è un giudizio positivo. Riconosciamo che stiamo andando nella giusta direzione. A nostro giudizio si deve fare ancora di più e siamo pronti a fare la nostra parte e siamo pronti ad essere generosi con il fondo e siamo pronti a credere profondamente nell'investimento sulla flessibilità. Anche perché se non ci fosse stata flessibilità tanti dei Paesi da cui proveniamo e provenite non avrebbero oggi le condizioni economiche che hanno. Se non ci fosse stata la flessibilità la ricostruzione in Germania non sarebbe stata così semplice. Se non ci fosse stata la flessibilità la politica sarebbe oggi cancellata da quest'Aula. Ma quello che voglio dire è che in questi sei mesi ci pare di aver visto un cambiamento profondo nella direzione, ancora non nei fatti. Io ricordo il vertice di Kipro. Era il giugno di quest'anno. Ricordo la discussione molto dura con i miei amici e colleghi capi di governo quando sottolineavamo l'importanza di investire sulla crescita, quando sottolineavamo l'importanza di investire in modo diverso sul rapporto tra economia e flessibilità. Quanto tempo sembra essere cambiato, eppure sono trascorsi solo sei mesi. Questi sono i due risultati che penso stiano insieme. Investimento in politica con la politica della Commissione che sceglie una direzione. Naturalmente potrei a lungo discutere dei risultati, l'accordo sul clima e sull'energia, la politica di passaggio da Mare Nostrum a Triton, la transizione istituzionale svolta a dispetto degli auspici negativi in un clima di positiva cooperazione, i meccanismi automatici di lotta all'evasione, l'investimento su una diversa politica di cooperazione internazionale, la declassificazione che tanto sta e stava e sta a cuore a questo Parlamento degli accordi negoziali per il TTIP, gli OGM, anche con alcune sconfitte. Ritengo, Presidente Schulz, che sia una sconfitta, che sul Made in gli impegni che questo Parlamento, inteso come istituzione, perché fu nell'aprile dello scorso anno, ma comunque questo Parlamento inteso come istituzione, ha assunto, chiedendo al Consiglio, alla Commissione di farsi promotori, non sono stati portati a risultato positivo. Sul Made in è incomprensibile la resistenza che alcuni Paesi stanno facendo. Per comodità, abbiamo presentato questo documento. È un documento che presenta tutti i risultati di questo semestre e mi consentirete allora di passare immediatamente alla seconda e conclusiva parte del mio ragionamento. Di tornare, cioè, alla domanda di fondo. Siamo riusciti in questi mesi a ridare un'anima all'Europa? È difficile affrontare questo dibattito in un momento in cui la discussione sul significato profondo dell'Europa vede oggi contrapposta una demagogia imbarazzante contro quell'idea di luoghi della speranza e della politica dell'Europa che, per esempio, Sua Santità Papa Francesco, che ha voluto portare il suo intervento in questa assise proprio durante questo semestre, ha spiegato con questa chiarezza e con questa bellezza. L'idea dell'Europa come un qualcosa che serve al mondo e, dall'altro, il tentativo di investire sulla demagogia, sulla paura, il tentativo di bloccare e rannicchiare i nostri valori dentro una piccola cornice e dentro una fortezza. Il luogo dell'Europa non è la fortezza, è la piazza. Il luogo dell'Europa non è la trincea, è il museo, è la scuola. Il luogo dell'Europa non è, o meglio, la parola chiave dell'Europa non è conflitto e scontro, è dialogo e incontro. E allora da questo punto di vista mi permetta, signor Presidente, di essere molto chiaro. Noi in questa stessa sede abbiamo aperto il semestre ricordando una giovane donna, Miriam, che stava in Sudan in quel momento, in catene per la sua fede religiosa. E sono orgoglioso e ho i brividi nel dire che l'Europa è che in questi sei mesi abbiamo permesso a quella donna di tornare alla libertà e di portare il suo bambino nato in un carcere a vivere libero, perché per noi Europa è innanzitutto libertà. E sono, Presidente, mi permetta di dire che sono emozionato pensando a quando il 20 di agosto ho avuto, a nome anche vostro, la drammatica bellezza e la difficile situazione di entrare in un campo profughi, a Erbil. Io me la ricordo la reazione di un giovane ventenne, di tanti giovani ventenni, quando a Srebrenica l'Europa di fronte al genocidio non ebbe il coraggio di aprire bocca e anzi persino i caschi blu assistettero attoniti e squallidi di fronte alla violenza e al genocidio. Oggi abbiamo di fronte a noi tanti luoghi in cui si perpetrano situazioni di dolore, terrore e orrore. Credo che l'Europa debba essere lì e lo sanno bene amici del Parlamento europeo, quei cittadini che sono scesi in piazza a Parigi. Lo sanno bene perché alcuni commentatori hanno detto la foto storica è la foto dei leader. No, non è la foto dei leader che camminano insieme. La foto storica è la foto di un popolo, innanzitutto il popolo francese, alla cui storia di lumi e cattedrali, di ragione e di bellezza. Io pongo, entrando a Strasburgo, in una sede europea ma anche in una città francese, un omaggio, l'omaggio di tutti gli italiani e di tutti gli italiani dopo quello che è accaduto, ma è anche, me lo lasci dire signor Presidente, quella idea profonda, quella straordinaria esperienza che abbiamo fatto sentendo i canti della Marsigliese mentre camminavamo, vedendo le immagini di donne uomini che non si rassegnavano all'idea del terrore e della paura e che dicevano con la loro presenza in quelle piazze che l'Europa è più grande delle minacce, che i nostri valori sono più forti dei loro attentati e che ciascuno di noi, se vuole essere davvero fedele all'idea di Unione Europea e di Unità Europea, oggi ha il compito, certo, di identificare un nemico, perché il nemico c'è. Guai a chi finge di non sapere che il nemico non ci sia. Certo che c'è il nemico, ma a quelli che dicono che il nemico è la religione invito ad andare a rileggere un grandissimo discorso, fatto dal presidente egiziano, tra i tanti appuntamenti di questo semestre vorrei sottolineare come il bilaterale che abbiamo fatto sia al Cairo che poi a Roma con gli egiziani, credo che sia uno dei punti fondamentali di svolta per il Mediterraneo, ma quel discorso che al Sisi ha tenuto il primo giorno dell'anno in una università al Cairo, in una università, dove ha spiegato che il nemico non è la religione, ma è quell'ideologia che punta ad uccidere anche l'idea stessa di religione che persone e leader come al Sisi cercano di portare avanti quotidianamente. Il nemico c'è, è l'ideologia, è il fanatismo, ma il rischio grande che noi abbiamo non è quello di non vedere il nemico, è quello di pensare che la paura ci possa fermare, ci possa immobilizzare, ci possa bloccare. E allora io credo che rinchiudersi, isolarsi, alzare limiti, alzare muri significhi non essere europei. Signor Presidente, qualcuno in queste ore sta andando oltre, nel dibattito politico ma anche in quel culturale, e arriva a dire che noi dobbiamo, in nome della nostra sicurezza, vivere impauriti e rannicchiati. Siamo arrivati a dire che la parola identità è in contrasto con la parola integrazione. Da uomo di governo, da uomo italiano, lasciatemelo dire, da uomo di sinistra, io voglio dire con forza che non lasceremo mai la parola identità a chi grida più forte, perché la parola identità è una parola bella, che ci appartiene, che ci riguarda. La parola identità è una parola che esprime il senso profondo dell'essere europei. Io sono fiero delle mie radici, io sono fiero delle strade in cui ho giocato a calcio, io sono fiero delle scuole dove sono cresciuto, io appartengo alla mia terra, sono orgoglioso di essere europeo, italiano, fiorentino, sono orgoglioso di ciò che rappresenta la mia piccola storia personale, perché la mia identità è un tratto fondamentale. Il contrario di identità non è integrazione, il contrario di identità è anonimato, il contrario di integrazione è disintegrazione, è rottura, è distruzione e allora noi oggi dobbiamo avere la forza di dire con grande chiarezza, con grande determinazione, che quando all'interno delle istituzioni europee e fuori si pensa di difendere la nostra identità rinchiudendoci in fortezze in nome della sicurezza, dobbiamo sempre ridire a noi stessi che libertà e responsabilità sono le precondizioni della sicurezza, che non c'è sicurezza possibile senza libertà in Europa e che in questo mondo i nostri nemici, non potendo ucciderci, puntano a cambiare il nostro modo di vivere. Noi non possiamo consentire a nessuno di cambiare il nostro modo di vivere. Se volete chiamatela con le parole che ritenete più opportuno. Volete chiamarla guerra? volete chiamarla conflitto? Volete chiamarla come vi pare? C'è una realtà vera. Lo spauracchio della demagogia può portare un decimale di voto in più, ma se qui noi saremo classe dirigente, se noi qui saremo leader e uomini capaci di guidare le istituzioni, la sfida di oggi è far tornare l'Europa a fare il proprio mestiere. E questo passaggio mi porta a dire una cosa molto semplice per chiudere. Se stiamo vedendo tornare la politica oggi in Europa, è perché in questi mesi e in questi anni noi abbiamo visto che il mondo reclama più Europa, non meno Europa. Però dobbiamo dire la verità. dobbiamo dire la verità. Questo tipo di Europa che abbiamo costruito in questi anni ha dato l'impressione di essere troppo spesso un modello basato soltanto sull'economia, sui parametri, sui vincoli, sull'austerità. Credo, signor Presidente, che al termine di questi sei mesi possiamo dirci che questo atteggiamento è stato un errore e che quel cambiamento che la Commissione Juncker sta portando in questi sei mesi è un cambiamento che probabilmente andava immaginato negli ultimi sei anni, non negli ultimi sei mesi. Oggi il mondo cambia, il mondo sta cercando di investire sul futuro, l'Europa no. Noi siamo stati a Brisbane insieme al G20 e le parole di crescita, investimenti e innovazione sono parole che sono risuonate ovunque. Noi dobbiamo essere alla guida di questo fenomeno di cambiamento, noi in fondo. Lo saremo soltanto se l'Europa tornerà a guardarsi negli occhi con la consapevolezza di chi rappresenta una superpotenza, non economica, una superpotenza valoriale, la stessa superpotenza di valori che certa parte della demagogia vorrebbe cancellare. Nel lasciare il testimone alla Presidenza della Lettonia ricordo a me stesso che quando questo Parlamento fu chiamato all'elezione diretta fu sotto la Presidenza italiana, era il 1975. La Presidenza italiana, sotto la Presidenza italiana, si fece l'accordo perché si passasse al voto diretto e all'elezione diretta dei parlamentari europei. Fu un momento molto importante, molto bello, molto significativo. Quarant'anni fa la Lettonia non soltanto non faceva parte dell'Unione Europea, ma stava in una storia totalmente diversa. Oggi dimostriamo che l'Europa è in grado di cambiare. Dobbiamo anche pensare però che questo cambiamento deve innanzitutto farci guardare da un lato alla politica di vicinato in modo diverso e questo è l'ascito che noi diamo innanzitutto alla nuova Presidenza. Politica di vicinato significa attenzione diversa al Mediterraneo, significa attenzione diversa all'allargamento dell'Unione Europea, perché noi non possiamo fare a meno di Albania, Serbia, Montenegro e non possiamo permettere che questa discussione sull'allargamento sia dettata e viziata dalla paura. E certo, riguarda anche il rapporto tra Ucraina e Russia, che è stato un tema tra i più delicati di questo semestre e che io temo continuerà ad attraversare la stagione che stiamo vivendo. Allora, nel darvi appuntamento ai prossimi appuntamenti internazionali dell'Italia, partire dall'Expo, che il primo maggio affronterà un grande tema per chi crede nella politica, nutrire il pianeta, cambiare la vita degli uomini. Questo significa fare un grande investimento sullo stile di vita, certo, ma anche di lotta alla fame. Io vorrei lasciarvi non con un pensiero su Telemaco, ma con un pensiero su Ulisse, perché è difficile leggere più di due libri, è difficile per alcuni di voi, lo capisco, però ho imparato che cosa fosse l'Europa non nei corridoi delle istituzioni, ho imparato cosa fosse l'Europa, signor Presidente, nello studiare la storia della mia città. E nella mia città c'è un grande personaggio, che è Dante Alighieri, che quando mette in bocca una piccola orazione a Ulisse, fa un riferimento che trovo straordinariamente efficace oggi, nel momento in cui vorrebbero rintanarci in casa impauriti e sconvolti. Dice Dante, facendo parlare Ulisse, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù, virtute e conoscenza. Credo che sia un grande messaggio per ciascuno di noi oggi. Il Parlamento europeo un bivio scelga se immaginare di vivere come dei bruti, inseguendo un messaggio demagogico che forse potrà portare qualche mezzo punto in più, ma che non consentirà di governare l'Europa. E dall'altro c'è la possibilità di seguire virtù e conoscenza, cioè di essere europei. E noi, emozionati e responsabili, crediamo che oggi l'Europa sia il vero luogo della sfida di domani. Con questo spirito ringrazio le istituzioni per la cooperazione e dico al Presidente del Parlamento europeo che sempre l'Italia, fedele al suo messaggio di civiltà, di valori e di ideali, continuerà a lavorare per un'Europa che sia sempre più dei popoli e sempre meno della burocrazia. Grazie.